Oh che dà, tu è super bella, perché? Ma il quartiere serve aiuto? Pensavate di mascherarvi aiutarsi? Hai aiutato anche te. Hai aiutato come? Qualsiasi cosa sia, puoi dirmela? Non potrei parlare di questo. Ma dovrei parlare prima o poi, è ovvio che è una cosa che ti sta consumando. E' più di quello che ha avuto il tuo fratello. E' più di quello che ha avuto il tuo fratello. E' più di quello che ha avuto il tuo fratello. E' più di quello che ha avuto il tuo fratello.